Non chiedete il fisico? Vai maestro! 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 Poi c'è un americano, no, zumba, bravo, intanto bravo, un po' di strumentista, messaggio Ciugani, un altro vero professionista, chi è il professionista di guitarra, non so Dall'indicapillo, Arturo Spannazoni, adesso definiamo le chitarre, un mito alla chitarra basso, Mario Imperatori, alla voce stupenda, bravissima, Giulia, un altro medico, neurologo, parodimanti, c'è ancora Andrea Monsensi, attraverso E ora il nostro leader, The Boss, il migliore di tutti, un poeta, un artista d'amore, un cantante, un guitarrista, Paolo Signore Grazie per la pazienza, a Fabio Isconi e a Giulia Leluci, bravi, grazie Grazie per la pazienza, a Fabio Isconi e a Giulia Leluci, bravi, grazie Grazie per la pazienza, a Fabio Isconi e a Giulia Leluci, bravi, grazie Grazie a tutti 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 Grazie a tutti